Ok ragazzi, benvenuti all'angolo di Minecraft Sì lo so, anch'io farò il Let's Play di Aoni, Demone Blu Lo so che non è un gioco di, chissà che livello grafico Però vi devo raccontare una cosa Io da piccolino scrivevo un sacco di videogiochi con RPG Maker Quindi quando ho visto che è stato fatto per l'RPG mi l'ho fatto no Voglio proprio giocarci, voglio vedere come è Non ho visto nessun Let's Play, ho visto qualche immagine Qualche posa piccolissima di Lord Creeper E' di Peewee, americano Ti vedete se è strani roba Eh, l'incomincio ragazzi, io parto Perché di me la fa di buono Ecco, qual è il nome del protagonista? Hiroshi, no, Hiroshi è troppo da ricchiore Come scrivo io qua? Nel Nabbo Così io scrivo, lo chiamo Ok, già so Lo chiamiamo Parassantura Ok Lo chiamiamo Fella Ecco, abbiamo sentito le voci di una villa o di città Dicono che si è abitata da un mostro Ah perché ci vai allora, vedi che sei scemo Se ci vai apposta Se hai una testa di cazzo, state a casa Takuro Molto più carina dall'interno Voglio vedere poi dopo Più dall'interno come sarà Sono io, qui fa davvero freddo Non siete malata E usciamo di qua Ecco, brava, vedi? T'è Takeshi, vedi? Che intelligente Takuro Cosa c'è che non va a Takeshi? Hai paura? Sapessi Ecco E' partito il vero, quest'altra suda E' riusciamo di qua Eh, vedi? Così stupido Fella Così stupido Non è possibile che un mostro esistano Eh, non ti dico così, Fella E' scientificamente impossibile Perché mi chiamavo Fella? Mi chiamavo Fella Mi chiamavo Fella Mi chiamavo Fella Ehi, Fella Ehi, Fella Ehi, Fella Questo è lo screen Ehi, Fella Stai attento Che sia Eh Io muovo sto bastardo Che cosa sto facendo Ho aperto qualcosa per modificare Ho sbagliato Oh, invece va bene così Ecco qua Posso anche già salvare Va bene Oggetti Non ho niente Ok Quanto c'è di HP? Io 1 Studenti delle scuole medie Ah, pensate Ecco che La porta è chiusa C'è il divano C'è un altro divano C'è un piatto rotto a terra Allora diceva Vabbè, sarà stato il piatto C'è un piatto rotto a terra Vedi Ho trovato l'oggetto Scheggia di piatto Che cazzo me lo faccio? Eh Non vuol dire che ci faccio Una scheggia di piatto io Vabbè Sto Ma perché c'è stile mo? Eh mo? Eh C'è nessuno C'è nessuno? Ragazzi Ma sti bastardi Non si apre Andiamo qua Io me ne pentirò Oh no 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 Eh no Vado qua dentro Ho visto qualcuno Sarà un amico mio Non si apre Meno male Non si apre Torno indietro Torno indietro Torno indietro Torno indietro Di sopra Di sopra Di sopra Di sopra È una mappa Della casa Ma non si capisce un cazzo Sì Facciamo finta Non si capisce un cazzo Non abbiamo visto niente No 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 Una volta Ci vado lì Ma stai Vado lì Questa merda Ma stai No no Oddio Chi è Trema Hai Takeshi Sto merda Sto bastando Takeshi Trema Dove sono gli altri Trema Intelligente Discussione Trema Continua Trema 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 Questo trema Se lo va bene Da muro Questa non si apre Quello che è ancora nel culo Sicuro qua Ma Non si apre A volte è tutto Dove devo andare A morco giudaporco Ritiri cinque minuti Se no Non si apre A morco giudati A morco giudati A morco giudati A morco giudati Non si apre Non si apre Non si apre Non si apre A morco giudati 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 Guarda, ce l'ho visto qualcosa che sta matto da io, mi ha fatto sto quasi a me sto giocamanzo, ci sono sette minuti, sto ancora qua così a girare, perché c'è una porta qui, non si può andare a una bravarte, l'ho girato tutto ormai, non va nessuna bravarte, non va, si possa vedere che dovevo andare in bocca al nonno, guarda che mi crema, non, mi brucia uno spanzo a questo, questo sarà niente, che devo fare niente? Ho trovato l'oggetto, la chiave è la biblioteca, ma qual'è la biblioteca tutte queste volte? Andiamo a cercare la biblioteca, ma questo è questo qua, morirò molto presto sicuramente, la volta iniziamo, ma facciamo una cosa, solo questo qua, salvo, ecco, la fortuna che ho io, non si apre, ecco, guarda, la biblioteca è questa, lo vedevo, no, io vorrei sapere, no, andiamo a vedere la biblioteca del piano terra, e qual'è la biblioteca del piano terra? E' questa? Non si si, adesso lo vedevo, la biblioteca della biblioteca del piano terra, il demone, oddio, 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 va troppo alto, va abbassare il volume, ecco, non legge più, il volume va troppo alto, ragazzi, ho trovato il maestro, l'oggetto, l'oggetto, la chiave è della camera dall'elto, e lui alza come 7 minuti, scusate per i suoi di... no, 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 vai, 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 no, 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 sono morto 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 come il nab sto bastardo è finito il gioco e continuiamo ragazzi dopo le 5 minuti vediamo di riuscire a non fare la figura di merda adesso so che c'è il demone è uscito da qui si c'è il gioco visto merda strunz 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 ma qual è il cesto posso andare forse aspetta forse non si è capito come fare vado 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 sarà l'ultimo di fare sempre la stessa cosa ma colpito rip paolo ja anche b manno man edge some 87 sound Questo è un puzzle, non è horror, è un puzzle, un puzzle game di merda con un coso blu con la faccia di cazzo. Ci avrete la camera diretta, vai, scappa. Ma perché non c'è niente dentro sto cesto? E se vado nell'armadio di sto bastardo che sta qua sopra, dopo fai it's rape time e non lo mettere al culo. Andiamo avanti. Ragazzi ci ritroviamo. Crocello, pinna, bascante. Buona, buona. Vai, vai, vai. È entrato, è entrato. È entrato. No, non mi scoprile. Ho trovato l'oggetto, ho fatto il saletto. Ci pulisci il culo. Dove salvi? No, no, no. Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Salva. Stavo uscendo. Oddio. Sei in brasilita che esci. La porta è chiusa. Dove sta la mano da letto? Il secondo piano, non l'è qua. È questo. Ah no, la mano da letto è il secondo piano. Eccolo là. Ah. Da letto. Per più chiaro, non c'è quello che ho a finestre. Cappeto, mobile, armadio, non mi fido. Non mi fido. non c'è niente, non è possibile, c'è qualcosa che deve essere... uuuuh, trovo la botola, sono caduto, c'è un pianoforte, c'è un fattissimo pianoforte c'è un codice da inserire, io non so, ce l'hai fatto c'è una macchia di sangue sul DO, il RE e il MI non lo so, porta aperta eh eh eh, posso scrivere qualcosa qui allora il video sta per finire ragazzi, alla prossima, ciao a tutti